Nei giorni delle polemiche infinite che in realtà sono cominciate negli anni scorsi sul terminal bus di via dei Contiricci a Vasto siamo venuti sul posto per vedere quella che è la situazione e abbiamo trovato sinceramente una situazione che è anche più grave rispetto a quella che era stata denunciata nelle scorse settimane dai nostri lettori che ci avevano chiesto di venire a controllare e a verificare di persona. Questo è lo stabile che è stato realizzato di recente quale sala d'attesa qui alla mia destra la vediamo nelle immagini del collega Nicola Cinquina sporcizia dappertutto è diventata questa sala d'attesa un bivacco notturno tra l'altro non ci sono delle sedute non ci sono panchine dunque l'opera può dirsi realizzata solo a metà ma dalla parte opposta è ancora peggio perché questi locali sono tra l'altro aperti la maniglia è stata divelta come vedete sono aperti e sono alla merce dei vandali le immagini si commentano da sole ci sono degli uffici ma ci sono anche dei servizi igienici che non vi facciamo vedere per buon gusto tra l'altro ci sono anche bivacchi notturni che sono testimoniati per l'appunto dalla presenza di una coperta di un piumone e invece qui nell'atrio vedete oltre alle scritte vedete scene di devastazione totale una porta distrutta spezzata la controsoffittatura in cartongesso totalmente divelta come sono stati divelti i pannelli delle pareti laterali eccole oltre alle scritte che sono dappertutto ecco guardate in che condizioni si trova questa zona quest'area del terminal bus che è stata realizzata di fatto lo scorso anno dopo tanti anni di attesa e con un investimento di circa 500 mila euro noi adesso ci spostiamo dall'altra parte perché la situazione non è migliore questo è il secondo fabbricato costruito nei mesi scorsi in particolare nel 2023 entriamo qui si tratta dei servizi igienici e le condizioni sono quelle che vedete tra l'altro anche bottiglie di vetro rotte quindi area pericolosa se qualcuno dovesse entrarci per fare i propri bisogni e acqua che non esce lo abbiamo verificato in precedenza possiamo vederlo di nuovo a favore di telecamera come vedete non c'è neanche l'acqua corrente non vi facciamo vedere per buon gusto le condizioni interne proprio dei bagni dei servizi igienici e adesso ci spostiamo al di fuori perché ricordiamo che proprio nella giornata di ieri in un incontro tra i vertici della tua e l'amministrazione comunale di Vasto è stato stabilito che i lavori verranno completati e ci saranno lavori ulteriori da fare viste le condizioni che vi abbiamo fatto vedere di questi due stabili del terminal bus dicevo i lavori verranno terminati entro agosto e ci sarà la riconsegna dell'opera certo questo non ha posto fine alle polemiche di questi giorni e tra l'altro polemiche che secondo me saranno destinate anche a proseguire in futuro ma indipendentemente da questo vi facciamo vedere proprio nel finale di questo servizio che stiamo realizzando le pensiline perché questo è un altro elemento di criticità che abbiamo più volte sottolineato e che soprattutto gli utenti hanno sottolineato tante volte qui ci sono nella parte centrale delle banchine ci sono le pensiline vecchie sfondate e insufficienti tra l'altro al di sotto proprio in assenza delle panchine nuove sono state sistemate provvisoriamente ma sappiamo che ciò che è provvisorio spesso diventa definitivo sono state sistemate delle panchine che dagli anni 80 e fino a non molti anni fa si trovavano sul lungomare di Vasto Marina le uniche pensiline nuove sono quelle 5 che vedete dalla parte opposta quindi di fronte al cimitero e sul lato di via dei Contiricci sono insufficienti perché inizialmente si era parlato e si è parlato per tanti anni a partire dal 2006 della copertura cioè di coprire quest'area in modo tale da poter offrire riparo ai pendolari ai viaggiatori che soprattutto nel periodo scolastico si servono a migliaia di questo terminal bus non è stato possibile visto l'aggravarsi dei costi a seguito del periodo pandemico e dunque un altro elemento su cui in futuro non adesso si dovrà assolutamente intervenire è quello per l'appunto di creare zone di riparo perché i pendolari si trovano sotto il sole nel periodo estivo e con le temperature che stiamo vedendo in questi giorni e poi sotto l'acqua nel periodo invernale insomma tante criticità per un terminal bus che è un'opera ancora da completare